Sono 59 in più i casi di West Nile registrati in Veneto nell'ultima settimana. Il virus trasmesso da zanzare adulte infette ha provocato in totale 380 infezioni. Di queste, 238 persone manifestano febbre e 142, oltre alla febbre, hanno conseguenze neuroinvasive. Sono 29 i casi confermati nei donatori di sangue che vengono testati prima della donazione. Rispetto alla settimana scorsa i decessi salgono a 17, due in più. Le forme sintomatiche si manifestano con sintomi simili influenzali lievi, febbre, cefalea, dolori muscolari articolari, raramente accompagnati da rash cutaneo. Meno dell'1% sviluppa una malattia neuroinvasiva come meningite, encefalite o paralisi flaccida. Il rischio di malattia neuroinvasiva aumenta con l'età e più elevato tra gli adulti di oltre 60 anni. Il bollettino Veneto riporta anche i numeri della diffusione delle altre virosi. Da segnalare un caso in più di febbre dengue che registra in totale 21 casi in Veneto, tutti provenienti da paesi esteri.